Siamo con i tre ragazzi del Real Forio che sono stati convocati per la rappresentativa Campania Under 17 per Luca Santaniello, Under 19 per Andrea Di Meglio e Antonio Cassagna è stata un'esperienza importante, è arrivato in finale anche Luca Santaniello purtroppo la sconfitta però al di là di questo è stata l'esperienza forse la cosa più importante è stata un'esperienza molto bella diciamo ci ha portato tante cose nel nostro bagaglio, mi ha acculturato molto è stata un'esperienza bellissima Che cosa ti porti dietro? I tanti rigori parati, le parate, l'esperienza, che cosa? perché hai fatto delle ottime prestazioni Ho fatto il mio dovere, mi porto a casa con sapevolezza siamo sempre umili però ho fatto il mio dovere diciamo Andrea Di Meglio diciamo che il gol non è arrivato però sono arrivate ottime prestazioni che hanno confermato quella che per te quest'anno è una stagione molto importante una conferma ormai in prima squadra e poi anche con la rappresentativa tante ottime prestazioni Sì, diciamo che quest'anno ci stiamo dando un po' da fare è stata un'esperienza molto bella, la rappresentativa comunque non è da tutti poteva andare un po' meglio però ci sono fatti valere Diciamo che ti spiace un po' per essere usciti o l'esperienza comunque ciò che vi portate è la cosa più importante? Sì, ci dispiace molto essere usciti perché comunque siamo usciti tre squadre a sei punti due vittorie e una perdita alla prima partita ci è molto dispiaciuto questa cosa però diciamo ci è rimasto ancora dentro questo dolore Cassani è invece un gol per la rappresentativa Campania anche perché è una stagione di conferma comunque da under caratterizzata un po' dagli infortuni però comunque le prestazioni ci sono Sì, diciamo che quest'anno gli infortuni ci sono stati però secondo me come ha detto Luca per il ruolo che faccio tra centrocampisti e attaccanti penso che il gol sia stata una cosa giusta nel torneo con la rappresentativa poi è stata un'ottima stagione quest'anno dai ci siamo divertiti